Mish Peace Man, bentornati su Araxan Channel, sono passate due settimane dall'ultimo capitolo e non poteva mancare la mia videoanalisi. Chiedo scusa se non ho molta voce, ma sto registrando dopo la partita Italia-Austria, vinta 2-1 dall'Italia grazie ai gol di Chiesa e Pessina. Partita che ho seguito in diretta presso la Ciurmaglia che saluto, trovate il link della live in descrizione. Con il mio acchipotente vi avevo mezzo spoilerato questo capitolo, spiazze, ed ora prima di parlare del capitolo, piccola pubblicità! Verso fine agosto a Bisceglie ci sarà il B-Comics, il festival del fumetto e del cosplay organizzato da La Tana del Nerd. Per maggiori informazioni contatta La Tana del Nerd, troverai nella descrizione qui sotto tutti i vari link. Se non vuoi perderti i prossimi video, e per aiutare a crescere questo canale, iscriviti! E se vuoi attiva la campanella per iscriverti, è semplicissimo, se ancora non l'hai fatto, basta cliccare su Iscriviti! Bene bene, adesso amici Peaceman parliamo brevemente della cover e del titolo del capitolo, ovvero Ordini. Come ormai sapete, quando posso, e in questo caso posso, mi invaso sul capitolo tradotto dai Lupitim, per me il migliore, trovate il link in descrizione. Riguardo la cover, è un'inutile cover a richiesta, condisegnato sopra il grandissimo Capitano Buggy, e uno scimpanzee che fa un puzzle con il corpo di Buggy. È la prima volta, se non vado errando, che si vede bene il corpo di Buggy da quando siamo nel nuovo mondo. L'ultima volta che lo abbiamo visto si compieva con quella sorta di panno. Passiamo ora al titolo, Ordini. Leggendo il titolo e collegandolo al precedente capitolo, si può dedurre che sicuramente vedremo gli ordini di Tama, ma poi, leggendo il capitolo, almeno a me, non è quello che ha fatto intrippare maggiormente, e di cui poi parlerò. Sì, ne parlerò del frutto Gangnamo, ma dove? E ora parliamo del capitolo! Il precedente capitolo si chiudeva con un clash tra padre e figlia, Kaido contro Yamato, che lasciava tutti a bocca aperta, e si riapre ovviamente da tutta chi tra parte. Ma parliamone subito. Siamo nel cuore della battaglia, in piena sala di concerto, vediamo una panoramica globale, lato Tama, lato Gp0, lato Sanji, lato Jimbe, lato Frenki, lato Inuarashi, lato Samurai, anche lato Luffy, che è sul sottomarino di Loh. Ricordate il piano di Tama? Siamo nel lontano capitolo 1004. Il piano è quello di far mangiare kibidango a più gifters possibili, raggiungere la sala del concerto e impartire gli ordini, in modo da capovolgere il numero dei nemici e far sì che i nemici diventino alleati. Un piano elementare che riesce alla perfezione. Da ogni parte di Onigashima o Onigashima, dopo gli ordini di Tama si diffonde il panico nelle file avversarie. Una nota di merito va alla forma ibrida di Queen, che a me è piaciuta molto e ha fatto ricordare tantissimo Octopus di Spider-Man. Quelle braccia meccaniche sono praticamente identiche. Finalmente ci viene detto il nome del gruppo di scienziati di cui faceva parte Vegapunk assieme a Judge, Caesar e Queen. Ma quanto doveva essere interessante quella squadra scientifica? Quanto vorrei un flashback solo su questo gruppo? E invece no! Oda infame ci dà questa informazione nuova con il contagocce, senza introdurre niente, che noi già non sappiamo. Ma CP0 dal suo canto è al dir poco imbarazzante. Come sappiamo è un'intelligence particolare, la migliore del mondo di One Piece. Non ci sta capendo nulla questa intelligence, eppure vi dico, anche se al momento li sto palesemente prendendo in giro, alla fine sono certo che cercheranno di banchettare anche loro. Torna il grandissimo Team Medico con Miyagi e Tristan, il doping effetti secondari strani, buffi, oserei dire particolari, e Chopper ne è la prova. La voce è palesemente quella di Rupert e Sciamena, e l'apparenza è sempre quella solita. In arrivo tanti piccoli portachiavi targati Chopper Baby Vecchio, ma ci sono effetti anche devastanti, e Zoro si farà carico di Chopper la nostra ciurma preferita. Se la caverà? Sicuramente! E che farà una volta in piedi? Già ve l'ho detto, andrà contro King. Il come, a me, è diverso da come l'avevo predetto, ma questa è un'altra storia. Con le rivelazioni di questo capitolo, credo di aver scoperto chi è Wuzwu. Era nel CP9 12 anni fa e anche prima. Nel lontano volume 41, la CP9 guidata da Spandine si trova a Oara e lancia il Buster Call. Spandine, il padre di Spandam, andava in giro con due tirapiedi. In biondo sappiamo che è il padre di Califfa, mentre l'altro non ci è mai stata svelata la sua identità. Ebbene sì, per me è Wuzwu. E riguardo Wuzwu, Impel Down sì o no? Per me no, non è stata Impel Down. È evaso da un altro carcere. Impel Down non è l'unico carcere e fino a quando non viene nominato, sono certo che non è a Impel Down che è stato incarcerato. Sappiamo inoltre che due anni fa, quando Luffy è iniziato a far parlare di sé e Wuzwu ha sentito parlare di lui, i suoi ricordi sono tornati al suo unico fallimento. Il frutto Gum Gum, quello che ha mangiato il nostro protagonista Monkey di Luffy. Sappiamo che è stato rubato dai pirati di Shankill Rosso da una nave nemica, probabilmente da Lucky Lu. I pirati hanno bene o male due tipi di nemici, il governo mondiale e la marina e gli altri pirati. Quindi è probabile sia stata la nave del governo mondiale su cui era di servizio Wuzwu. Ma perché quella frase sul finale? Ci vuol far pensare che è Roger? Se fosse di Gold di Roger sarete l'uso e non mi piacerebbe perché abbiamo visto tante persone che lo hanno conosciuto e nessuno ha detto Toh è il frutto di Roger. Inoltre abbiamo visto più volte Roger combattere nel flashback e non lo abbiamo mai visto come fruttato. Che sia di Xebec, se fosse di Rox di Xebec, sarei perplesso dato che dei suoi ex sottoposti come Barba Bianca, Big Mom e Kaido, non hanno detto nulla riguardo il frutto. L'unico che ha detto qualcosa è stato Barba Bianca ma riguardo il cappello, che di fatti era di Shankill Rosso. Chi sei di Joe Boy? Spero non sia quello, perché la bellezza di Luffy è che ha un frutto banale, la gomma, che ha saputo sfruttare da Dio. Cosa penso? Che la frase finale sia un effetto marketing, al che alcuni obietteranno. Ma ti pare che per un frutto mettono in prigione un membro della CP9? Sì, il governo cerca i frutti, vuoi che per il suo reparto scientifico guidato da Vegapunk, vuoi che per rafforzare il suo potenziale bellico ne ha bisogno. E quindi, perché non dovrebbe arrabbiarsi se perde un frutto? Inoltre sappiamo che Vegapunk è un genio, abbiamo visto che è in grado di inserire frutti nelle armi, abbiamo visto che è in grado di cronare i poteri del pica-pica e inserirli nei cyborg e di pacifista. I frutti del mare sono rari e veri e propri tesori. È normale che il governo mondiale voglia accaparrarseli tutti. E ora che vi ho detto la mia, ditemi la vostra qui sotto, sono curioso. Lucky è qualcosa che richiede un gran dispendio di energia e questa volta non voglio fare previsioni per non rovinarvi il prossimo capitolo. Siete arrivati fin qui? Se scrivete un commento qui sotto, commentate con l'hashtag gongong. Ripeto, hashtag gongong. Prima di salutarci vi ricordo che mi trovate anche su Instagram. Su Instagram trovate i meme, gli spoiler e altre immagini one-pieceose, foto culinarie e non solo. Inoltre, essendo iniziati gli europei, ci saranno anche alcune immagini a riguardo. Per seguirmi anche su Instagram trovate tutte le informazioni nella descrizione qui sotto. E ora i saluti. Saluto il circolo del leoncino, veri massoni, veri eredi di ciò che fu conosciuto come gli Usop. Saluto tutti voi che avete visto il video, sperando vi sia piaciuto. Saluto e ringrazio tutti gli iscritti. Ringrazio e saluto coloro che mi seguono sulla pagina di One Piece Backstage Italia. Ringrazio coloro che mi seguono sulla mia pagina personale, Araxan. Trovate tutti i link qui sotto. Se avete domande particolari su One Piece, scrivetele pure e magari ci farò un video a parte. Ami One Piece? Condividi questo video. I lupi team cercano editors. Se il video ti è piaciuto metti un like e... ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!